Signori dopo i video delle sfide più difficili di questi incarichi epici settimana numero 8 andiamo a vedere come e dove trovare soprattutto gli XP coins cioè le monete XP verdi, blu, viola e ovviamente anche quello oro da ben 15k XP Quindi signori ho registrato barra frebutato una clip che vi lascerò appunto a fine video appena adesso finirò di parlare quindi signori mi raccomando codice lucido nel negozio oggetto di ford iscrivetevi e attivate la campanellina un bel like ozzo sotto questo video condividetelo soprattutto con tutti i vostri amici e vi lascio al video ragazzi alla clip di tutti gli XP coins li ho messi praticamente quasi in ordine quindi signori mi raccomando godetevi il video ci vediamo appunto in un prossimo video barra live probabilmente stasera di live alle 20.30 E recuperatevi i video delle 3 sfide più difficili di questi incarichi epici settimana 8 che ho caricato prima di questo video qua quindi signori vi lascio alla clip dai ragazzuoli Grazie a tutti 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 Grazie a tutti